Ix vuole collegare i nodi della tua rete con la spiaggia di Amelie. Ora è chiaro dove si sono diretti. E come ci arriviamo? Io non posso, ma tra te e Amelie c'è una forte connessione. Sei stato tante volte alla sua spiaggia, vero? Puoi fare tu il salto. Allora lo farai per me? Cercherò di prenderlo vivo. Promettilo, devo essere io a finire Ix. Bene, allora ti aiuterò ad arrivare laggiù. Io non posso inviare due persone, ma verrò subito dopo di te. Hai detto tu che non puoi andare da lei. Infatti. Ma posso venire da te? Grazie alla forza del legame che ci unisce. La chiappa sogni ti condurrà da lei. E poi? Il misanga mi condurrà da te. Tutto qui, quello che porti? Sì, non mi servono armi. E non voglio portare neanche lui. Ehi, fragiailo. Sì? Hai qualcosa da mangiare? Oh. Ti ho contagiato, eh? Sam, fa' attenzione. Se le cose si mettono male, occupati di lui, ok? Ok? Se vuoi che funzioni, devo per forza toccarti. Chiudi gli occhi. Ora immagina Amelie e la sua spiaggia. Le vuoi bene, vero? Tu le vuoi bene. Ora ci siamo. Ma tu le vuoi bene, Grazie a tutti. Amelie? Sam, che ci fai qui? Pronto a farla finita. Prima della fine di tutto quanto. Che cosa le vuoi fare? Farò quello che devo. Terrò al sicuro l'entità estintiva finché l'umanità non sarà spazzata niente. Niente fermerà la testa estinzione. Qualsiasi cosa tu, io o chiunque altro faccia all'umanità, resta qualche centinaio di migliaia di anni. Punto. Perché allora non tagliamo corto e accettiamo il destino? Come le creature che ci hanno preceduto. Lo sappiamo cosa ci aspetta. Perché mai rimandare l'inevitabile? Noi che abbiamo le Dooms, lei, siamo tutti legati qui per una ragione. Perché tutti abbiamo un ruolo nel Dead Stranding. E' questo posto, questa cazzo di spiaggia. Non c'è riemersione qui, no? Uno di noi muore fine e se ne va all'al di là. Non male, no? Il fortunato che perde pone fine a questa infinita rottura di palle una volta per tutte. Perciò niente CIA, niente voraci, niente puttanati. Solo un bel combattimento vecchio stile. Bastone contro corda, fucile contro filo. Un'altra fine prima della fine. Un'ultimo game over. Io sono la particella di Dead. Coraggio! Sei fortunato! Tanto non c'è scuola. Perché tutto questo? Ok. Tanto la fine. La fine per tutti noi. Per questo paese... No. No. Erika, state solo rimandando l'inevitabile. Erika, state solo rimandando l'inniere. Non mi serve quest'arma, Sam. Posso vincere. Posso vincere! Tutto bene, Sam. Ehi, tu! Da questa parte! Non manca... Abbiamo tutto il tempo del pozo. Sampanze! 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 Sam! Tu non... Non ci arrivi, eh? Non puoi fermare questa cosa. Nessuno. Noi abbiamo le Dooms, Sam! C'è solo un modo in cui questa cosa può finire. Fatti avanti! Mi vanno in calma e una birra agghiacciata! Mi vanno in calma! Mi vanno in calma! Ritorni, muori nuovo! Il diavolo, il diavolo tutto! Ritorni, muori! Ritorni, muori! Non soglia quello! Ritorni, muori! 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 Erofobica. Beh, congratulazioni. Hai vinto la partita. Peccato che tu non abbia fermato un cazzo. Su, facciamola finita, dai. Fragile. Vedo che ti sono rimasta in pressa. Sono fragile, ma non sono così fragile. Stavolta sarai tu ad andare in pezzi. Dici davvero? Guarda, quello che ci lega è molto più forte di quanto tu creda. Dammi il potere, cazzo. Oh, che ti succede? Sei già a pezzi. Vaffancula. Io sono Higgs. Sono la particella di Dio che permea l'intera esistenza. E chi sei tu? Tesoro, non sei altro che merce avariata. Tu sei merce avariata. Che sei merce avariata. Grazie.